Il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo Padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunista in un solo corpo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.